Franco Pellizzotti Il 2013 del campione italiano parte da Castagneto Cartucci Come sta andando e quali sono i primi programmi per la nuova stagione? La preparazione sta andando molto bene, siamo stati fortunati anche con il tempo, questo inverno siamo riusciti a prepararci bene e per il momento non abbiamo avuto intoppi Adesso le prime corse saranno quelle di febbraio, il giro in Mediterraneo e poi via via fino al giro d'Italia Sulle tue spalle una maglia importante, quella tricolore e la possibilità dopo le elezioni di Levico anche di vestire quella azzurra Ci pensi già, il mondiale è a Firenze Questa nuova notizia per me è stata una bella notizia Perché sicuramente la prima parte di stagione il pensiero è quello sul giro d'Italia Finito il giro ci sarà da pensare a questo mondiale, a una maglia azzurra Un mondiale che verrà fatto in Italia, Firenze, su un percorso molto impegnativo Quindi un pensiero si farà sicuramente Il passato di Franco Pellizzotti parla anche di una maglia a po' al Tour de France Ora sei capitano di una squadra completamente al tuo servizio, vesti la maglia di campione italiano, hai qualche sogno da realizzare ancora? Sogni se ne ha sempre, bisogna mettersi dei sogni davanti per andare avanti Come ho detto quest'anno ci sarà da fare un giro d'Italia Che da tre anni che non faccio quindi avrò delle grosse ambizioni Con una maglia soprattutto tricolore addosso quindi sarà ancora più bello Più emozionante Non bisogna porsi degli obiettivi ma bisogna guardare avanti E come ho fatto finora a guardare avanti e cercare di ottenere sempre il massimo Che Androni giocattoli è quella che si presenta al dia del 2013 Guidata da Gianni Savio e poi con tutti i suoi collaboratori? Ma sarà un Androni come vecchio stile Un Androni dove arriveremo alle corse sempre al massimo Cercheremo di onorare tutte le corse e i nostri sponsor La maglia che indossiamo Cercheremo di ottenere il massimo da ogni corso Dopo sappiamo che vincere sarà sempre difficile Però come abbiamo dimostrato anche in quest'ultimo anno Tutte le corse cercheremo di essere protagonisti